buongiorno inizio il video con un voice over perché sto registrandoli domenica mattina e la domenica mattina non mi fate parlà questa mattina mi sono fatto dei mini pancake con la farina d'avena e della marmellata di mirtilli e poi un tè verde questa è la mia colazione tra poco potrò anche parlare un giorno ho fatto colazione quindi adesso riesco a parlare domenica domenica mattina sto distrutto in coma quindi la mattina non parlo se non ho fatto colazione mi preparo e andiamo dal mio fratello domenica e stiamo insieme anche perché al suo compleanno a dopo vedo se riesco a vloggarvi qualcosa anche perché preferisco dato che comunque siamo in famiglia preferisco potermi la giornata però qualcosina magari riesco a vloggare a dopo sono ruspanti questi galletti mi fido voglio parlare con il contadino amatriciana del boss che si mangia boss è pane fai la zuppetta fai la scarpetta dai non si fa non si fa amatriciana del boss che si mangia boss è pane fai la scarpetta dai non che numero lezzi 84 no è 48 va qua va qua va qua va soffia catarina di pubblico bravo la macchina che c'è la macchina che c'è la macchina che c'è la macchina guarda quella davanti ancora quello davanti che frena ma è oggi di cosa ha trovato no c'hai ragione così per curiosità anche noi che siamo provincia di roma che non c'è nessuna allerta però vedete la mucchina non si trova neanche qui mi pare un po' esagerazione sinceramente 畫are 4 l'epoca 4 Grazie a tutti